e ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video io sono andrea lanciotti il vostro tecnico digitale e oggi vi faccio vedere una cosa velocissima smart e molto veloce dovete fare un connettore dovete fare un cavo satellitare c'è bisogno delle forbici adesso c'è un piccolo oggetto adesso già da molto molto tempo che si chiama stripper che in pratica vi fa già la filettatura per mettere il connettore sia il connettore satellitare che anche quello terrestre quindi vi faccio vedere come funziona e poi vi lascio se volete qui sotto il link in descrizione voi lo comprate e vi potrebbe essere utile quindi prendiamo il cavo andate a mettere il filo girate in un senso e poi nell'altro e il gioco è fatto eccolo qua bellissimo strippato perfettamente prendiamo il nostro connettore e lo andiamo infilare se avete quello a crimpare ancora meglio fate prima o se no lo avvitate una volta avvitato il vostro connettore è pronto eccolo qui ok molto molto semplice dopo a seconda dei connettori ci sono delle varie lunghezze ma questa diciamo è una lunghezza standard quindi per questo video è tutto mi raccomando lascia un like iscriviti al canale e scrivi qualche commento se vuoi altre cose come queste e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti da andrà lanciotti il vostro tecnico di digitale ciao